E' stata una bella sorpresa, abbiamo dovuto improvvisare un comizio anche fuori perché la sala non era abbastanza capiente per contenere tutte le persone, ma ci fa piacere, è il segno di una vitalità e di questo progetto che Gian Guido porta avanti, che noi veniamo con piacere a sostenere, che è il più giusto per garantire un futuro migliore a questa città, quindi è un bel segnale. Siamo molto determinati a vincere questa domenica e questo lunedì e siamo felici che si sia dimostrata la capacità di costruire attorno alla credibilità della candidatura del sindaco uscente di Gian Guido una coalizione ampia, articolata e naturalmente noi continueremo in prospettiva a lavorare in questa direzione, mettere al centro un progetto che punti sulla qualità del lavoro, sulla qualità della vita delle persone, sul contrasto alle diseguaglianze, sulla giustizia sociale e anche sulla conversione ecologica. Credo che su queste basi saremo in grado di vincere e questo sicuramente sarà un buon auspicio anche per il futuro. Grazie a tutti e buon lavoro.